buongiorno 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 ben ritrovati a questa video analisi forex dell'8 marzo auguri a tutte le donne forex del mondo video analisi realizzata in collaborazione con il broker topfx di cui state vedendo la home page il link lo trovate sotto nella descrizione di questo video con topfx potete investire fare trading sui mercati più importanti indici titoli azionari italiani ed esteri valute materie prime etf cripto valute insomma tanti tanti strumenti finanziari a vostra disposizione a condizioni molto vantaggiose attraverso due piattaforme la metatrader 4 e la ctrader vi faccio vedere quella che la ctrader questa è la versione web state vedendo un grafico giornaliero e kinashi che è simile a quello che io uso che praticamente lo vedete qui su trading view quindi avete esattamente gli stessi grafici potete creare personalizzare il layout il piano di lavoro con più grafici contemporaneamente il sistema di missione a fare trading direttamente dal grafico il sistema di missione ordine che è fantastico uno dei secondo me gli aspetti più interessanti di questa piattaforma perché vi fa vedere in anticipo quanto state impiegando in base al capitale che investite alla sites e il margine che vi trattiene e poi potete definire lo stop l'uscita quindi stop o in profit o in base al numero di pips se voi mettete 10 pips lui vi mette il prezzo vi fa vedere quello che il prezzo qui ve lo mette in automatico oppure c'è un prezzo lo volete fare l'uscita in base al prezzo lo mettete qui lo volete fare una operazione in base alla percentuale rispetto al capitale cioè voglio rischiare il 1% voglio fare il 2% di performance lo mettete qua in automatico vi crea il prezzo vi dice dove si va a chiudere l'operazione oppure lo volete fare in euro voglio perdere massimo da questa operazione 50 100 euro 1000 euro così come ne voglio guadagnare 100 1000 euro lui in automatico ve lo mette al prezzo in base a questa informazione quindi davvero molto potente questa piattaforma e poi cliccando qui sulla sinistra entrate nel mondo del copy trading ovvero la possibilità di replicare automaticamente le operazioni di traders fornitori di strategie che scegliete voi potete anche candidarvi come fornitore qui potete filtrare qui in alto i vari parametri che trovate i filtri e lo potete fare inizialmente con un conto demo quindi rischiando nulla zero potete copiare anche più fornitori è un grande consiglio visto anche recentemente relax che era tra i più famosi purtroppo ha visto insomma nel discorso accusare perdere perdere tutto praticamente fissate una massima perdita potete indicare che se dal momento in cui copiate quel fornitore di strategia e impostate che siete disposti a perdere massimo il 20 per cento 50 per cento e non direi di più poi vabbè se dedicate una piccola parte capitale anche 100 per cento dipende da voi questo ovviamente però mettetelo così evitate delle brutte sorprese soprattutto di notte quando non potete controllare magari siete a letto è comunque sotto nella descrizione del video vi rimando comunque se vedete zen fx official che il sito di costantino responsabile per l'italia di topfx che ha realizzato questo suo sito personale in cui raggruppa tutti quelli che sono i suoi test personali che sta portando avanti associati anche a myfxbook un altro sito che è il più famoso al mondo per le rilevazioni di delle statistiche delle varie strategie di trading ci sono tanti strumenti gratuiti messi a disposizione quindi venite su questo sito lasciate la vostra email e ricevete tutti quelli che sono i vari report e allora andiamo a vedere il forex mamma mia guardate lì l'euro dollaro venerdì scorso è andato oltre il livello che qui poteva apparire come possibile supporto era una zona ex zona di resistenza l'analisi tecnica resistenza violata diventa supporto e viceversa ma il grafico ai chi nasce ed è questo il motivo per cui io integro le candele chi nasce l'analisi con i livelli orizzontali statici perché per varie ragioni sono destinate a essere violati nel tempo e quindi questo livello potenziale io lo cancello perché non c'è stato il verde come magari è accaduto qui e ora come ora anche qua è un'altra bella la zona grafica verso 1 18 e 60 c'è una ex resistenza ma è rosso l'ultimo supporto tracciato su questo grafico addirittura è 1 16 e 30 ma potrebbe arrivare a 1 16 e 30 andare ancora oltre quindi attenzione è giovedì c'è il meeting della bce se vieni nel mio sito anzi ti metto anche questo link nel sotto nella descrizione dal mio sito renatodecarolis.it speciale bce organizzato proprio in collaborazione vedete offerto da top fx e sarà in diretta su youtube ci sarò io ci sarà toni cioni puviani nicola para guido gennaccari e forse anche qualche altro ospite che si aggiungerà mi faranno sapere questi potenziali ospiti e andrà in diretta su youtube ma solo a chi richiede il link quindi nome e email non ti chiedo altre informazioni soprattutto il telefono e riceverà il link per seguire la diretta di questo importantissimo meeting della bce bce 11 marzo 2021 quindi l'euro si sta preparando in discesa saranno contenti quella della bce se ricordate a cominciare dal capo economista lane diceva qui dobbiamo prendere provvedimenti con un euro troppo forte siamo tornati sotto 1 e 20 lo disse all'epoca a settembre quando toccò 1 e 20 ora siamo 1 18 e 70 dollaro che si sta rafforzando anche contro il franco svizzero anche qui una potenziale bellissima resistenza con questa candela rossa a settembre aveva respinto le quotazioni fino a 0 88 questa volta invece è diverso e quindi anche questa volta mi dispiace di cancello quindi ed è tutto verde dollaro yen idem spinge 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 adesso il prossimo livello addirittura 109 58 ma se ci arriva lì col colore verde potrebbe andare ancora più su sterlina dollaro anche qua debolezza di una moneta nei confronti di quella americana simile discorso per l'australiano sempre più vicino al livello 0 76 il neozelandese a 0 71 e 13 proprio dentro un supporto ma con il semaforo rosso a favore dei ribassisti e usd cad che adesso sembra intrappolato tra questi due livelli c'è anche il meeting della banca centrale canadese questa settimana bitcoin giusto per vedere il trend ai kinashi fa adesso meno 1 e 41 e ancora verde al rialzo sopra questo supporto dei 45.231 dollari e si chiude qui questa video analisi mi raccomando clicca sui link che troverai in basso e ci vediamo domani con una nuova video analisi forex arrivederci ciao